Enrico Dignoni intervengo da Bologna per segnalare il vantaggio della Roma con Edin Dzeko al quinto minuto Bologna 0 Roma 1 di nuovo a te e sul gol di Dzeko un dribbling su Danilo Rete, gran gol di Edin Dzeko, torna a segnare l'attaccante bosniaco, gran dribbling finale poi con il sinistro a battere per la seconda volta, Ravaglia un debutto in fellegrini davanti a Ravaglia, la conclusione Rete e segna, segna la Roma, segna la Roma con Pellegrini il terzo gol solo davanti a Ravaglia in ginocchio forse aspettavano magari la chiamata all'intervento da parte del primo assistente dell'arbitro che è rimasto lì però con la bandierina abbassata e forse da rivedere comunque del Bologna si tratta di un autorete, in realtà anche in questo caso è stato Cristante, Bologna 1, Roma 3, autogol di Cristante Codignoni ancora Attenzione Codignoni, sempre Bologna, il quarto gol della Roma, azione di squadra, Veretù Bologna 1, Roma 4, il trentacinquesimo di nuovo a te una Roma che dilaga al pari di Verstappen e chiudevamo solo Attenzione Codignoni, intervengo sempre mentre stai raccontando la Formula 1 il quinto gol della Roma con Mkhitaryan, Bologna 1, Roma 5 e il quarantaquattresimo a te Grazie a tutti